Giornate di musica antica Villa Gomez, organizzate dal Civico Istituto Musicale Zeglioli. Questa iniziativa, la sua seconda edizione, in che cosa consiste e qual è l'obiettivo? Le giornate di musica antica appunto di quest'anno si inseriscono in una serie di proposte musicali e culturali che vogliamo offrire alla città di Lecco, che si affiancano appunto all'attività didattica della scuola ordinaria che da anni portiamo avanti. Sono strutturate in quattro laboratori, quanto un laboratorio strumentale, un laboratorio vocale, un laboratorio strumentale e vocale, un laboratorio di canto antico. Il liuto sembra sempre una cosa estremamente esotica, non viene proposta la chitarra, qualcosa che già si conosce. Secondo me questa musica in realtà potrebbe attrarre moltissimo i giovani. I giovani si intende persone che hanno voglia di affrontare la musica in una maniera molto aperta. Innanzitutto questa è musica che ci arriva in maniera molto diretta, sia la musica rinascimentale che la musica barocca, perché è di questo che si parla. Sono estremamente collegate con la nostra epoca in qualche modo, sia armonicamente che per lo spirito. C'è anche una grandissima parte in cui si può sviluppare l'improvvisazione e una certa libertà anche di pensiero, cosa che in alcune epoche della musica classica è una cosa che non succede e che magari crea una certa rigidità anche mentale di comportamento che la musica barocca non fa. Un altro appuntamento sarà alle 21.15, sabato, presso la campanile della Basilica di San Nicolò e un ultimo presso la domenica, presso il chiostro della Canonica.